E allora, ciao a tutti, la solita borsa da viaggio, volevo dire, qui è una nuova puntata di Radio Svegliati, t.id, e il folle Jack, il folle Jack, il folle Jack, è stato, ecco dicono, non è stato ricoverato, io non mi sono ricoverato, io ho occupato una zona di una clinica bolognese, perché? Perché sto più comodo per fare, perché sto più comodo qua, cosa è successo? Ho fatto un duro incontro, questa mattina, ho fatto un duro incontro, questa mattina, questo è un assaggio di un pezzo netto, sono regato con la mia testa, come diversa, vedete anche dove sono, no? Così? Perché mi ricordavo ieri sera, ah, ah, cassino attacco di panico alla mattina, così presto, oh, oh, non so già più chi sono, appena sveglio, oh, oh, è stato piccolo, un attimo, d'ora qui sotto e cosa posso fare adesso? 1% assaggio di essere presente, ah, che è beep, ah, kaatita, nevicno l'importante che non sente la conta la gente, ah, a gente, eh, ah, la gente, eh, ehi! Dicono che sentono che dopo che forse disturbo low beh, ma di non interessa niente, c'è sempre solito problema, la musica a qualcuno dà fastidio, anche se volete che vi dite. Bene ragazzi, vi do appuntamento un'altra volta, non so quando, chissà, vi saluta il vostro caro amico, il folle, Jack il folle, ciao.